...o che si ha letto alla relazione del Presidente Paolo della Pintessa dal Consigliere Fuscio... ...e poi dopo... ...faccio vedere... ...potete mettere... ...contate che la pubblicazione... ...si legge il risultato... ...si legge il risultato... ...si legge il risultato del voto... ...segno, c'era una comunicazione... ...c'era una comunicazione... ...e non è stata chiesta... ...e che è stata prima della presenza... ...al calo della presenza... ...prima della presenza... ...di vita... ...paccio. ...poi no... ...che mi sono... ...a che mi sono... ...che mi sono... ...a che mi sono... ...l'invento... ...io le sto chiedendo... ...la presenza... ...e leggere... ...ciò che si è venuto a Pallo della presenza... ...dipesso sia... ...e non lo chiedere... ...continio... ...comolare... ...mi faccio andare... ...l'intura di questa comunicazione... ...e non lo sposta... ...sabbi... ...allora... ...tora una volta il Presidente... ...forzo si chiuda... ...omente... ...un altro... ...contamentale... ...chiesto da un consigliere portale... ...assiziamo... ...per presenza... ...monza... ...a un teatrino... ...di questa politica... ...guardate... ...non è... ...la questione... ...si sono voluti scegliere... ...anche... ...il Vice Presidente... ...se lo sono voluti creare... ...intanto a loro... ...si sono scelti... ...Andrea Capano... ...perché ho detto... ...la presentante... ...in questa parte... ...e non si la mettino... ...poi... ...se qualcuno... ...sui giornali... ...scrive... ...che questa amministrazione... ...è il prezzo di un'associazione... ...perché questo è il modo... ...di comportarsi... ...de l'associazione... ...non fare la parola... ...non tenere conto... ...di quali sono... ...le istanze... ...che giustamente... ...vervengono... ...da parte del consigliere... ...comunale... ...quasi offreste... ...la dignità... ...de consigliere... ...comunale... ...che se un consigliere... ...viene di intervenire... ...non lo fa... ...per... ...per una... ...area... ...ecopica... ...lo fa per testimoniare... ...le sue scelte... ...per avvenire conto... ...alla cittadinanza... ...delle sue scelte... ...cosa che voi... ...non fate... ...non avete avuto... ...nemmeno la faccia... ...di presenziare... ...a questo dipatto... ...guardate... ...de dei partito... ...e dei partito... ...e dei partito... ...e con quale faccia... ...di presenziare... ...una città... ...votando un candidato... ...di maggioranza... ...a dire presenza... ...del consiglio... ...ma... ...con quale dignità... ...politica... ...guarda davanti... ...ma come potete... ...immaginare... ...non avevate conto... ...vi chiede... ...dominareciare... ...con una bustina... ...non c'era... ...el senso elettorale... ...perché era stato occupato... ...avete votato... ...e io... ...ho constatato... ...le cose... ...di parecchi di voi... ...vi sembra... ...normale... ...vi sembra... ...possibile portare... ...queste situazioni... ...dove la legalità... ...e senza... ...totto i miei... ...questo è il modo... ...di comportarsi... ...di un'associazione... ...a bene... ...questo è quel modo... ...di comportarsi... ...quando si ha... ...al peggio... ...di tutte... ...questo... ...questo è quello... ...che volevo dire... ...è stato convocato... ...in maniera virtuale... ...tutto perché... ...si doveva fare fretta... ...di sogniare... ...leggere... ...capato... ...di alla scorsa... ...votazione... ...all'animazione... ...ludo... ...non era stato possibile... ...leggerlo... ...con i tre discorsi... ...desto... ...desto... ...leggio... 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 ...questa... ...in modo... ...l'animazione... 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 ...presidente... ...io sto... ...finello... ...di almeno... ...inferno... ...lo sto... ...finendo... ...li fare leggerla... ...desp�io... ...aspetto... ...la maniera... ...inferno... ...ahora... ...presidente... ...questo è stato... ... la mettima prova... ...di come... ...vengono fatte... ...le cose... ...da questa... Io non l'ho fatto prima perché volevo vedere che c'è tutto arrivato a questa distrazione e abbandono l'altra istituzione di protezione di controllo che è colleghio di schiena e della messenza.